ok allora la live iniziare la metto la sigla dai però dai così tanto per sport sport vado ciao ciao ed ora va in onda il secondo tempo del film 2022 i sopravvissuti eccoci buon salve buon salve ma oggi caspita c'è proprio guarda che gente qua che c'è buon salve a tutti amici di gioco esperienza televisione come sta non so se l'avete capito ragazzi questa era una battuta nel senso che lui non ci trovava proprio così eh no non volevo non volevo assolutamente fare allusione a nulla i figuri dottor milone ci vediamo in tribunale questa presentazione simone così che ti sei fermato no perché mi si era abbassato il microfono buon salve a tutti amici gioco esperienza come state spero bene oggi faremo una nuova puntata del gx chatting specialina specialina specialona perché oggi è stato sono state aperte le gabbie per quanto riguarda il buon carissimo in irreprensibile final fantasy 16 che in tanti stavano aspettando e quindi oggi ci fare una chiacchierata molto dettagliata con chi ha avuto modo di fare la recensione per le pagine di game experience punto it ovvero devo indicare indicato di come grazie grazie ma io partecipato veramente la nuova del genere non pensavo non pensavo se questa cosa è tutto improvvisato ovviamente io in ogni caso così è mi dissocio comunque qui con noi questa si fa così a caso qui con noi questa sera il buon porrito ciao porrito tutto a posto capito perché non è ancora introdotto i suoni per far sì che tu possa fare queste cringiate poi qui con noi sempre il piccolo kevin che oggi è stata roba che non sono ultimo perché ho seguito l'ordine delle camere effettivamente oggi non sei ultimo stranamente perché l'ultimo posto arriva la felicità di cicciuzzo proprio ma devo ancora ricordare cicciuzzo questo problema questo passaggio un po così come stai piccolo kevin ok e poi infine il buon cicciuzzo che chiaramente sta interpretando umberto posti i paesi citare umberto posti per cortesia sai quasi tipica è un'ottima imitazione e infine il buon cicciuzzo detto quell'altro lì detto salve salve è subito cioè sono che oggi beva del bene dell'acqua strano è strano che non è un alcolico considerando come è andata l'altra sera direi che va benissimo come è andata l'altra sera voglio proprio saperlo voglio proprio saperlo che è successo aspetti solo che cerco l'audio di riferimento mi dia un secondo a me ieri sono arrivati degli audio assurdi da parte di cicciuzzo gente che salutava aspetta aspetta vediamo se si sente non c'è nulla di compromettente vero no no speriamo alla fine la luce sai che roba no perché alla fine parola bestemmione totale bestemmione ci può questare non si sente niente cicciuzzo non si sento cazzo non si sento cazzo basta 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 potresti sempre fare la gag per cui avvicini ma accendi la torcia microfono e parte la luce ci sta ci sta molto bello comunque comunque adesso che sappiamo che c'è anche la felicità e la sobrietà anche di cicciuzzo io direi che possiamo incominciare a parlare di questo gioco ma c'è un che ma quale c'è un piccolo iniziale tutto tutto piccolo io ho deciso che oggi lascerò spazio questi tre baldi giovani che sicuramente potranno parlare in modo adeguato di final fantasy 16 dal momento che io non sono un grande esponente della serie non saprei neanche da dove incominciare grande esponente non so perché ho detto esponente volevo dire esperto volevo dire esperto mi è uscito esponente non lo so perché è capitato è capitato cioè sono in esponente non vedi cicciuzzo era quella incredibile somiglianza con l'amore dei Vaneskin sono un po' cloud sì sì comunque comunque a proposito di esperti come stavo dicendo io ho deciso che lascerò a voi la palla e comincerete a parlare di quello che vi va quello che non vi va del gioco so che comunque ci sono delle limitazioni da seguire perché se no altrimenti arriva square enix con una cetta gigante e ci non ho veramente super il culo proprio quella ecco esattamente quella pillolina lì sì esperto esponente tanto sono la stessa cosa sì ma esatto grazie gerry che almeno tu mi difendi ma è gerry cala è proprio gerry cala è proprio lui ma è sia gerry cala che gerry scotti entrambe le cose fusi basta che non sia gerry cardinale per il resto anche lui comunque ragazzi quindi io adesso farò un bellissimo quindi ce ne vai di già me ne vado me ne vado questa partecipazione stasera di resta no no perché comunque ogni tanto verrò a rompermi il cazzo ma dai ma lo proverai tu se ci sta l'occasione lo proverai sta facendo la cacca su sta andando sì sì se ne è andato e perché non lo vediamo e fa infatti se ne è andato se ne è un po' di burro no andiamo 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 che rinforzi andiamo vai allora purrito finalmente è uscito finalmente la tua il tuo viaggio su final fantasy 16 è finalmente annunciato a tutti attraverso la tua bellissima recensione che la regia dovrebbe linkare secondo me perché sarebbe una cosa molto saggio dato che parlano ancora fatto impanicato ho provato pensavo fosse un canale serio ci fosse il comando punto sclamativo final fantasy 16 non pensate poi credere poi non sai un'altra parte della regia però c'è questo comando i ragazzi cliccate sui piedini perché sempre importante detto questo siamo un po rito prima di iniziare a comunque parlare un attimo più approfonditamente del gioco in quello che è stata la sua esperienza e comunque nei limiti di quello che è possiamo parlare che comunque il gioco esce domani non è ancora uscita effettivamente un parere generale c'è mi dai il tuo sul nostro posso prima chiedere una cosa prima di arrivare al parere generale perdonami Kevin ma voglio che partire proprio ancora dal dagli antipodi ovvero quali erano le tue aspettative prima della recensione e se pensi che queste abbiano avuto comunque un poi quando ci arriveremo se pensi che poi queste qua siano state comunque abbiano influenzato in qualche modo il tuo hype per il gioco sono state rispettate non rispettate poi comunque quello ci arriviamo però qua dal tuo punto di partenza quando hanno lanciato il gioco quale è stato il tuo pensiero ma se tutto ci dovete stare molto calmo se partiamo dall'inizio io da eterno fan cioè probabilmente la saga che ha maggiormente scandito la mia vita fondamentalmente era già nata quando sono nato io ed è stato uno dei primi titoli che arrivato insieme alla mia ps1 quella quella piccola quella quadratina non la playstation 1 e quindi il mio hype era smisurato come lo è sempre stato per ogni final fantasy ma avevo anche due sensazioni differenti una che era un po di paura e una invece che è arrivata dopo la prova che ho fatto a fine aprile in aprile la paura arrivava dai trailer secondo me l'ho scritto anche in recensione l'abbiamo ampiamente detto anche in altre occasioni comunque nonostante non rovinino l'esperienza i trailer sono stati troppo spoilerosi troppo pieni di cose e quindi la mia paura era che l'esperienza di gioco fosse stata diciamo abusata per non usare un termine più forte e che per la voglia di vendere tante copie perché loro hanno l'esigenza di vendere tanto e di prendere anche diciamo un metacriticalto diciamo così ok che per fare questo loro si siano tra virgolette svenduti che non è un bel termine signor milone può aggiustare la testa di cicciuzzo mi dà un fastidio grazie 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 e queste cose non le faccio onestamente no guardando tutto il tempo ma pensa a parlare non romperi e quindi no sa vincendo quindi la mia paura era quella ciò che fosse stata veramente disegnata l'esperienza perché perché appunto loro avevano bisogno di mostrare il gioco in maniera prepotente e invece la sensazione che è arrivata dopo la prova era che fosse un titolo e poi purtroppo non nella stessa maniera mai stata confermata questa questa mia ultima paura diciamo così l'esperienza non è inconcludente dal punto di vista ludico la mia paura era quella ok però chiaramente diciamo che le sensazioni che ti danno la storia e il giocato sono due sensazioni molto differenti ok quindi lo butti su diciamo due piani differenti effettivamente sì sì però che vanno a collidere o sono sono nettamente distaccati durante l'esperienza no no collidono per diverse maniere c'è l'argomento gameplay sarà l'argomento più lungo di questa chiacchierata però ok si toccano questi due argomenti chiaramente ci sono sensazioni positive che arrivano dal gameplay però chiaramente l'anello debole dell'esperienza ci sono anche delle spiegazioni che mi sono dato sul perché le effettive sensazioni che ti arrivano non siano totalmente positive però per finire la risposta cicciuzzo chiaramente arrivavo con aspettative alte perché ok la messa in scena era impattante di trailer e quello che avevo provato nelle due ore di prologo comunque io continuo a dire che se escludi la parte di giocato quello che ti viene mostrato è potente è innegabilmente secondo me di qualità poi possiamo discutere su gusto personale e soggettivo quindi può piacere quello che raccontano non ti può piacere però secondo me a livello di potenza di impatto è uno è un prologo di quelli importanti per quanto riguarda i videogiochi cioè non è una roba di una roba quindi io arrivavo con hype importante ma secondo me con una con la giusta dose di realismo che mi ha fatto secondo me stare comunque centrato e alert chiaro e quindi però tu mi stai dicendo una cosa importante ovvero che rispetto a cioè si tratta di un passo indietro rispetto a un episodio come il 15 dove gameplay e strama erano al suo livello dove lo facevano entrambi cagare sostanzialmente questo è il punto il 15 per me è un enorme buco nero non esiste però almeno questo siamo profondamente raccordi però va bene però se dobbiamo parlare subito del gameplay io mi spingo un po in qualcosa di difficile che non ho scritto nella recensione perché non sarebbe stata fraintesa nel 90 per cento dei casi però secondo me il gameplay del 15 è molto più final fantasy del gameplay del 16 ok c'è come proprio come parliamo no come è perché io sono il più grande hater del 15 che sulla faccia della terra io non ci trovo lati positivi cioè non è che sto dicendo che il gameplay del 15 è bello io sto dicendo che è brutto ma se dobbiamo parlare di cosa rispetta la natura di final fantasy un saluto alla znabula che sta passando pompieri non so che cosa sta arrivando ma da te spesso sì 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 da me mi riesci a toccare di maniera molto corrompita questa cosa che ho detto cioè hanno già sentito porro cosa 15 meglio del 16 ragazzi mi spiace interrompere questo momento di diciamo pur divertimento però il buon noob ha riscattato un kevin custom smr è peccato che la regia non lo dica e lo devo dire io devi farlo brava regia lo faccio devi farlo fallo 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 dai a Roma dai porca troia che era fortissimo cazzo che era fortissimo perfetto che brutto momento per essere vivi ero al telefono con Square Enix e stanno arrivando da te porro eh sì sì no lo so no il mio discorso non è che è bello il gameplay del 15 ok non sto dando complimenti al 15 però sto dicendo che a livello di natura cioè di rispetto di quella che è la natura quello che secondo me deve essere la natura del gameplay di Final Fantasy il 15 rispettava molto di più alcuni punti che secondo me sono imprescindibili cioè nonostante tutto nonostante tutto c'era più componente GDR in quello che in questo ok ed è una roba che secondo me cioè hai tolto la parte JRPG da Final Fantasy cioè è una roba è una roba strana da vedere perché secondo perché e poi stiamo aprendo un milione di argomenti ma la base di questa fantomatica componente RPG c'è nel senso che le magie ci sono all'interno di Final Fantasy 16 c'è c'è foco che l'hanno fatto in per amore dei toscani perché a posto di fire l'hanno chiamato foco e è una roba stranissima però comunque io lo continuerò a chiamare fire quindi c'è fire c'è blizzard c'è fulgor c'è ci sono tutti ma se te li togliessero a te non cambierebbe niente perché non c'è non c'è un sistema di di debolezze elementali quindi la mia domanda è cosa mi serve cioè che cosa sto però se ci pensi però se ci pensi le magie erano molto sacrificate anche nel 15 anzi quasi inutili se non distruttive perché c'era il problema del friendly fire alla fine sì quindi il spesso magia era tradito anche nel 15 e qui apro una apro una domanda a questo punto così se vuoi portare avanti il discorso per me nel nel commenti successivi al rilascio della demo ma in realtà anche sotto i vari trailer il il main team dei commenti era eh ma non è più final fantasy ora annetto annetto che io ho una mia precisa idea su cosa renda final fantasy un final fantasy e nessuna di questa ha a che vedere con l'aspetto ludico ma con l'aspetto di costruzione di war building eh motivo per cui final fantasy eh mmo che viene disprezzato diciamo dal giocatore casual che è cresciuto con i titoli ps1 ma che non ha mai diciamo sperimentato la 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 componente appunto mmo del gioco eh lui non lo definisce un final fantasy invece secondo me final fantasy 14 è molto più final fantasy di qualsiasi capitolo eh dal 10 in poi detto ciò eh la domanda è che cosa secondo te rende appunto visto che l'hai citato final fantasy un final fantasy perché questo è meno final fantasy del 15 eh e eh in cosa invece rimane molto unito legato alla saga originale no 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 aspetta aspetta sì sì allora rispondi tu hai declinato hai declinato però vorrei un attimo vorrei un attimo parlare di una cosa vai perché comunque va bene fare tante domande però si sta parlando del gameplay adesso si sta parlando perché perché si considera non final fantasy rimaniamo focus su un argomento perché se no è un cazzo di casino è ragione anche tu è ragione anche tu però non è ragione che tutto vai vai hai ragione mettiamola da parte sappi che c'è abbiamo tutto il tempo cicciuzzo tutto il tempo neanche tanto però comunque possiamo approfondirlo ci saranno altri dread faremo sicuramente uno filter su final fantasy ah sì sì quello appena finiscono sicuramente succederà e detto questo buonissimo adesso abbiamo parlato dell'inutilità effettivamente di questi delle magie un elemento che comunque sono importante per final fantasy per il brand comunque sono abbastanza riconoscibili ma durante la tua esperienza di gioco hai trovato effettivamente che era un semplice key share bottone e vinci facile il gioco o semplicemente col progredire dell'avventura effettivamente c'è la sfida che comunque hanno allo stesso riuscita ha dichiarato che ci c'era nelle fasi comunque concitate del gioco no allora il discorso è complesso e stratificato allora il gioco è puro action ok senza componenti ddr appunto e è un finto stylish action nel senso che ti fa credere nelle coreografie nella nel come si mostra ok il gameplay il combat system di essere una derivazione di david mccray 5 e bayonetta ok non è quello cioè anche proprio a livello di sensazione non è quello la profondità che hanno quei combat system non ce l'ha questo e soprattutto questo ve lo lancio adesso e lo riprenderemo dopo manca manca di un fine cioè il il gameplay di quei titoli lì aveva uno scopo il tuo scopo era fare la cosa più figa del mondo e allo stesso tempo prendere la valutazione più alta del mondo cercando di mantenere il più possibile in aria l'avversario no proprio per stringarla per renderla terra qua tu non hai questo cioè banalmente l'unica cosa che ti serve fare è stordire l'avversario ok ok e non lo fai facendo combo più ampie più numerose maggiori e più fighe ok lo fai semplicemente selezionando l'abilità che ha più alto valore di stordimento quindi perché io mi devo impelagare in combo quando mi basta equipaggiare l'abilità che lo stordisce più velocemente faccio quella ne faccio altre due che hanno un alto valore di stordimento magari non quanto quella ma tanto io ho sei mosse disponibili quindi ne metto tre di danno e tre di stordimento concateno le tre di stordimento che poi non è un concatenamento semplicemente R2 come in Hogwarts Legacy e vai fai triangolo poi magari fai L2 switch A con R2 triangolo switch A con R2 triangolo hai fatto le tre mosse di stordimento il tizio l'ha estordito ora devi fare le tre mosse di danno bene rifai riparti dal L1 il ciclo e poi fai R2 triangolo fai R2 quadrato perché su R2 quadrato per tre volte ti sei messo la mossa che fa più danno basta fine cioè c'è un sistema di combo non è che non c'è ma è inutile è un sistema di combo che non so come dire mentalmente l'abile che si rompe facilmente alla fine domina questa diciamo sì perché sono combo con l'attacco sostanzialmente con l'attacco base quindi sì è vero che continui a premere sto cazzo di quadrato sostanzialmente però è anche vero che le volte in cui lo vai a premere rispetto alle volte in cui userai le abilità sono molto meno cioè piuttosto è un spammo le abilità perché tanto il cooldown al massimo il più lungo che hai sarà di 10 secondi 15 secondi ok quindi cioè è una roba super particolare perché è gustosa da vedere ok però poi a livello di ricompensa al giocatore non ce n'è cioè non è che hai appunto minchia ho raggiunto il grado sss sono stato fighissimo oppure madonna guarda che roba ho fatto ho concatenato sta roba poi ho lanciato un fulgore alla fine e gli ho fatto 9 milioni di danni non li guardi neanche mai quanti danni hai fatto cioè è un grande peccato perché soprattutto la deriva action che ha è una roba molto papabile per gli amanti del genere cioè cazzo poter broccare le abilità e andare a fare determinate punti danno con tutti i moltiplicatori del caso conoscendo per bene le abilità e i limiti anche dello stesso combo è una roba che è intriga cosa vuoi dire chiedere cicciuzzo eh no volevo chiedere ma quindi pensi che per esempio se avessimo avuto una gestione dei cooldown più simile a quello che è stato visto in final fantasy 7 remake avremmo avuto un gameplay più soddisfacente a quel punto di vista per me final fantasy 7 remake è il gameplay perfetto per questo per un'evoluzione ok virata verso l'action per me final fantasy 7 remake è la roba quindi la risposta è sì quindi la risposta è sì io credo che se in questa roba ci fosse stato il gameplay di final fantasy 7 remake non dico che staremmo parlando di quasi tutti i dieci ma saremmo molto vicini al perfect score per me è proprio per me è proprio final fantasy 7 remake è una roba da da rasponi a due mani cioè è il gameplay perfetto perché è il mix tra il classico e lì ha un senso di esserci e l'evoluzione action però qua cioè si vede che loro secondo me la mia idea è che loro avrebbero voluto puntare più in alto cioè loro però secondo me sono dovuti venire a patti con con tante cose io non so se qualcuno gli ha messo anche fretta per farlo uscire però ripeto anche il fatto che ci siano le magie in quella maniera o che comunque siano previste delle delle combinazioni adesso io cioè voglio chiedervi una cosa se io vi racconto di una mossa è spoiler? non credo spoiler è spoiler effettivamente allora apriamo una parentesi apriamo una parentesi l'embargo tu l'hai letto quindi sai che cosa puoi dire o non dire questa secondo me se questa cosa è propedeutica a spiegare un concetto ma diciamo senza contesto comunque non è che ti rovini l'esperienza no no cioè non rovina niente perché non è una mossa che dici minchia hai imparato l'evocazione che capito non esiste un'evocazione quindi non sto spoilerando nulla di segreto però semplicemente esiste una mossa nel parterre si vede anche qua in questo momento sotto ogni icon ha l'abilità principe che è quella a rombo e poi quattro abilità a tondo queste quattro abilità sono quelle che tu puoi posizionare su r2 più quadrato y quadrato triangolo quindi poi su quattro ne puoi avere due mentre quella romboidale è quella peculiare che rimane su cerchio ok ed è non ha cooldown cioè quella su cerchio la puoi spammare quanto vuoi può essere una schivata può essere il dash della fenice in avanti eccetera eccetera tra quelle tonde di odino esiste un cancel un cancel come nei picchiaduro ok cioè tu clicchi quella roba lì e ti cancella l'animazione ha un cooldown ha un cooldown ma quella roba non ha senso di essere utilizzata cioè esiste un'abilità che ti fa cancellare l'animazione quindi tu potresti spammare cioè secondo me loro avevano proprio idea di mettere un simil juggling ok perché quella roba se no non ha senso vi giuro che ho provato a usarla in 52 maniere diverse è figa ma non esiste un concatenamento intelligente per utilizzare quella roba lì quindi cioè la questione è secondo me loro e poi l'hanno lasciata perché se no non si spiega perché tu mi abbia messo quella abilità lì a meno che perché per me DLC 100% a meno che nel DLC non cagano fuori chissà che cosa però siccome non lo posso sapere e non allo stato attuale non è detto che ci sia questo DLC perché non è stato annunciato e secondo me loro volevano fare di più e non ci sono riusciti che gran peccato che gran peccato più che altro perché comunque considerando che questo rappresenta la maggior parte del gioco effettivamente questa è l'esperienza di gioco quello che comunque ci fa accompagnare dalla trama in tutto e per tutto che gran peccato più che altro a me sentendo le tue parole mi lascia un po' la mare in bocca ti dico la verità perché comunque era un argomento che avevamo lasciato in sospeso qualche diretta fa nel senso che il nostro auspicio appunto era proprio che probabilmente nelle combos ci si nascondeva qualcosa poteva esserci qualcosa di più fortunatamente non è così non è così però quantomeno spero che dall'altra parte l'altra faccia della medaglia possa quantomeno essere più intrigante ossia dal fronte narrativo a meno che non c'è qualcos'altro sul gameplay che vuoi andare a diciamo io rimarrei su un paio di robe sul gameplay c'è qualche concetto particolare per me è fondamentale dire che il grosso problema di Final Fantasy lato gameplay generale è il fatto che c'è un anzi uno dei due problemi c'è un forte sbilanciamento tra tempo effettivo giocato e tempo di visualizzazione di filmati ok loro cosa hanno fatto loro hanno scelto di darti la possibilità di giocare tanto in contenuti secondari cioè le cacce non sono un contenuto in game sono un contenuto che si sblocca relativamente circa metà e le secondarie sono invece appena sblocchi la prima open map si sbloccano le secondarie poi ci sono due tipi di secondarie sono le secondarie fetch e le secondarie diciamo più importanti che hanno una croce sul proprio da MMO le secondarie fetch hanno il punto esclamativo le secondarie le fecondarie le secondarie più importanti hanno hanno il più e queste sono scritte meglio hanno un'importanza migliore le altre sono fetch quest tutte sono 100 90 sono brutte 10 sono belle ma per arrivare alle 10 belle devi giocarti tutte le 90 brutte e il problema e qui c'è il discorso legato al gameplay è che avendo un combat system così poco remunerativo e non essendoci una componente gdr che non è solo legata alle magie ma è anche legata agli equipaggiamenti tu non hai motivo per sfruttare quei momenti che il gioco usa per farti godere il gameplay l'infrastruttura ludica eccetera cioè tu non hai un effettivo motivo per andare a fare le cacce tu non hai un effettivo motivo per andare a fare le secondarie quindi se non per completamento esatto se non sei come me un pazzo dedicato al completismo quindi il discorso è sei quasi obbligato a fare la tirata dritta verso la parola di end quindi sei obbligato ad andare in fondo alla storia e chiaramente senti più il peso del sto guardando più che giocando perché si sono autolimitati il modo che avevano scelto per non farti sentire il peso perché arrivi a un certo momento in cui dici minchia basta vi prego non ho motivo per giocare a queste secondarie vado avanti faccio la tirata unica poi sta tirata unica e adesso ne parleremo seguendo quello che mi chiedeva Kevin ovvero della scrittura cioè questa tirata unica è una delle cose più fighe che io ho visto negli ultimi dieci anni addirittura per me per me la scrittura di Final Fantasy XVI attualmente non è uguali e se la gioca solo con The Last of Us Part 2 porco due porco due quindi mi stai dicendo che è un prodotto che è non dico pari però comunque che punta al diciamo al grande schema mantiamola così quantomeno ha uno script molto corposo sì sì beh sono 40 ore per la per concludere se senza secondarie senza cacce senza niente sono 40 ore 35 40 ore per chiudere la trama principale posso fare un momento polemica allora a questo punto per agganciarmi a questa domanda ma perché allora con Final Fantasy in termini di recensione poi tu mi dirai magari sono della tua stessa idea e quindi non ti so rispondere però ma perché in Final Fantasy magari si è fatto pesare di più lo sbilanciamento fra combat system e componente narrativa mentre in The Last of Us che è un prodotto che non dico che abbia una parte di gameplay brutta fatta male ma comunque è secondo me meno importante meno rilevante in fase di recensione si è dato molta 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 peso a quello che è la componente narrativa del gioco e molto poco a quello che è invece l'aspetto più ludico dell'avventura ci sono due risposte la prima è perché io non ho mai recensito The Last of Us 2 no no parla intervista appunto magari questa era la risposta che mi aspettavo perché diceva magari sono decisato vabbè comunque no no nel senso che per dirti per me il gameplay di The Last of Us ma anche il del primo in generale è di una pesantezza e di una di una roba senza senso e tra l'altro di un ripetitivo che non ha non ha e siamo perfettamente d'accordo su questo però io credo che il grossissimo problema generale di Final Fantasy è che le due opere siano una occidentale e una orientale e quindi a prescindere secondo me dal nome Final Fantasy rimane nei confronti di al paragone di The Last of Us una nicchia che tra l'altro con diversi anche pregiudizi secondo me non ha lo stesso respiro ma neanche di un God of War a livello mediatico cioè noi siamo noi in questo momento siamo abbagliati dalla campagna marketing di Final Fantasy 16 che è una cosa fuori dal normale per la saga perché è stato trattato in tutto e per tutto nello sviluppo e nel marketing come un'esclusiva Sony cosa che gli altri Final Fantasy non hanno ricevuto se non Final Fantasy 7 remake ma perché è un altro discorso lì è una questione che era stato annunciato in quel famoso E3 era stato pompato perché Final Fantasy 7 probabilmente è il più mainstream tra tutti Final Fantasy quindi quello più vendibile sì quello più vendibile poi perché comunque aveva una storia di eredità rispetto al legame Final Fantasy PlayStation che forse è il più forte legato al brand PlayStation quindi comunque era proprio una cosa a parte però se andiamo indietro gli altri Final Fantasy anche il 12 il 13 non è che hanno avuto il 15 un po' un po' arrivava un po' cavalcava un po' la questione verso il 13 cioè il 15 viene avvenuto comunque bene il 15 infatti è una cosa cioè ragazzi se se Final Fantasy ha delle ripercussioni sul futuro post 16 la colpa non è del 16 la colpa è del 15 che ha uno scriteriato metascore che non ha un cazzo di senso quel metascore assolutamente sì assolutamente sì quindi per me è quella roba lì comunque Kevin Cicciuzzo fate voi ditemi ma una cosa sì avevo avevo detto che avrei interrotto cioè prima avrei avvisato ma non puoi fare così non puoi fare lo splendido vi ho spaventato vi ho spaventato lo so lo so avrei dovuto sì dovevo annunciarmi prima sì avete ragione l'ho detto io non ho già passato le mie sentiamo la squillino le trombe ha finito il vino trombino anche no dico esatto sì infatti stai parlando appunto di metascore eccetera 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 io oggi parliamo liberamente non mi fai un cazzo oggi ho assistito a diverse conversazioni fra colleghi ma non parlo solo nostri parlo anche fuori dal nostro bel paese italico italico inerenti appunto alla valutazione di questo titolo l'hai visto quindi nel globo terraqueo nel globo terraqueo sì sì hai visto redattori di testate esterne che hanno parlato di questo in america si discuteva anche su ma sarebbe su reddit cose che cazzo ne so sulla questione del voto del giudizio inerente a questo gioco no e anche su come è stato preso dal pubblico ovvero che all'inizio c'era stata una reazione molto negativa adesso sembrerebbe esserci un po' di dubbi nel senso che il vecchio fan di Final Fantasy vede questo gameplay questo tipo di gioco un po' almeno questo è quello che ho percepito io da completo esterno ignorante della serie tu cosa ne pensi appunto Porro per quanto riguarda il giudizio inerente a questo gioco secondo te si erano create delle aspettative troppo alte nei confronti di questo titolo allora è difficile cioè il concetto qual è è che torno a quello che ho appena detto la campagna marketing lo butta agli occhi della gente come un'esclusiva Sony esatto quindi secondo me tutti compreso gli adetti ai lavori si aspettavano qualcosa si aspettavano in generale un prodotto simile alle esclusive Sony che dal punto di vista tecnico quindi di grafica di come sfrutta l'hardware PS5 eccetera eccetera scenica ci siamo è quel valore lì è probabilmente la cosa più next gen che vedrete dopo Flight Simulator mazzo tra l'altro citato Flight Simulator che comunque è ciccioso e no ragazzi perché oggettivamente su PS5 non stiamo parlando su PC sì 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 certo PS5 questa roba qui a questo livello non la vedi mai ma ci sono delle robe ma ci sono dei filmati dove il in engine e CGI è fusa insieme in cui tu in un certo momento il tuo cervello non capisce più un cazzo di quello che sta vedendo cioè dici cosa sto vedendo cioè perché c'è della roba renderizzata su sfondo in engine che tu dici wow è una roba che oggettivamente non ha rivali quindi all'avanguardia almeno da quel punto di vista sì sì secondo me adesso ne ho bagnato di ogni appassionato di Final Fantasy è come quando speravi che i filmati di Final Fantasy 8 fossero il gioco vero ah minchia ecco la roba lì e secondo me la gente si è quindi si è ha pensato che secondo me il gioco in toto fosse un'esperienza tipo l'esclusive PS5 non lo è perché ma anche perché mi viene da dire che la Square Enix di adesso non riesce a farcela con la roba lì questo è un salto è un salto comunque importante è un inizio di direzione e quindi secondo me molta gente è rimasta delusa forse più anche di quanto ci si potesse aspettare ma il problema è la premessa con cui questa gente si è approcciata al gioco poi non lo so io la questione voti in generale a parte è molto strano giudicare i voti perché da una parte ho visto dei dieci che non hanno senso e sono stati tanti questi dieci ecco infatti anche lì volevo capire cioè secondo te e quindi per quale motivo c'è stata questa tra virgolette ondata di dieci perché secondo me è semplicemente quello io credo che tutto il mondo fosse consapevole di una cosa tutto il mondo dei recensori fosse consapevole di una cosa Final Fantasy come brand per andare avanti a produrre titoli AAA di un certo livello aveva bisogno di una ricezione da parte di pubblico e critica di un certo livello se no Square Enix chiudeva i rubinetti lato single player poi Final Fantasy 14 è la gallina dalle uova d'oro di Square Enix continuerà a essere in mano a Yoshida continuerà a fare le sue robe e quello non si tocca il problema è single player andiamo avanti con il remake di Nomura o andiamo avanti anche con la numerazione principale certo per andare avanti con la numerazione principale tu devi avere un certo tipo di ricezione devi vendere tanto devi rientrare totalmente di quello che hai speso ok devi anche far rientrare Sony dell'investimento giusto e devi avere una valutazione non cioè o superiore o pari o di pochissimo inferiore al 15 e tutti tutti siamo noi che abbiamo recensito il gioco ma secondo me tutte le persone che fanno questo lavoro erano consapevoli di questa roba quindi io credo che ci sia stato il recensore che ha voluto essere totalmente in pace con se stesso io non ho problemi a dirlo non mi faccio problemi secondo me c'è stato il recensore che è stato totalmente in pace con se stesso e ha dato un voto netto c'è stato il redattore che ha detto ok voglio premiare il percorso perché secondo me questo è il percorso giusto quindi li do uno due mezzo punto in più non lo so quello che è e poi c'è stato invece chi ha detto per me per poter far andare avanti questa cosa questa roba deve essere bussata all'infinito e quindi tira fuori il 10 ora io non ho letto tutte le recensioni dei 10 quindi non so se poi c'è un discorso generico quindi non è sì sì assolutamente però ma guarda che il discorso è che secondo me nel senso è un gioco difficilissimo da recensire perché forse è il più difficile della mia da quando ho iniziato a scrivere è stato il più complesso ma perché tu da recensore secondo me questa roba te la senti sulle spalle cioè sei consapevole del fatto che al netto del gioco comunque hai un certo tipo di responsabilità e secondo me è giusto anche che il recensore lo senta poi la vera differenza di tutto la fa come tu contestualizzi cioè come tu contestualizzi quel voto come tu anche spieghi quel voto cioè io non ho problemi a dire che il voto che ho dato ok tiene conto anche di questa roba qua ma credo che la mia recensione la mia recensione sia stata estremamente corretta e coerente con quello che è il mio pensiero ok dimostra che ci sono dei grossi problemi che non sono negabili ma io continuo a dire che dal punto di vista narrativo di scrittura ok di messa in scena questa roba non ha rivali questa roba nella mia testa per quello che ho vissuto io a livello di emozioni con un combat system come quello che diceva prima cioè quello di Final Fantasy 7 questo per me era perfect score io a questo avrei dato 10 con un altro combat system perché per me quella roba lì di scrittura cioè quella roba lì che è stata scritta quella roba che è stata messa in scena per me è una roba di un impatto di una potenza di una forza di una maturità di una cioè io io non ho mai visto nessuno parlare di certi temi con la potenza ma la naturalezza con cui l'hanno fatto cioè signore qui ti passano da fellazio e scene di nulla integrale a parricidi a ti giuro a non posso usare quella parola abusi sessuali porro per favore spiegare cos'è il parricidio a milone che lo vedo in difficoltà no non voglio che venga detto neanche va bene così guarda grazie grazie mille sei mutato no no ci sono ci sono ah non ci sono qua su no ci sono giuro milone sei mutato no ma mi sentono in live mi sentono in live ok aspetta non so cosa ho fatto mi sta penso dando del film no sta parlando in live ma non lo sentiamo noi si boh non so perché ragazzi adesso ti si sente adesso ti si sente ok boh non ho fatto niente in realtà comunque vabbè no stavo dicendo che va bene così non andiamo nei dettagli ci ciuzzo va bene così no no comunque non me lo aspettavo cioè tu mi avevi accennato in privato che mi avevi detto guarda che si toccano determinate tematiche che in altri videogiochi raramente si vede però è il motivo anche per questo è stato messo per il 18 anzi io provando la demo sono rimasto stupito perché ho detto a una delle prime scene si vede una scena di combattimento si vede del sangue ho detto quando cazzo mai è capitato che si vedesse sangue così copioso all'interno di un fantasy ok ma tu dici che magari il fatto che alcuni abbiano dato una valutazione alta a questo gioco è per il fatto che hanno premiato il fatto che abbiano usato un po' di più rispetto a altre altre capitoli della serie ma in generale rispetto anche magari a altri videogiochi dico sì sì secondo me assolutamente è una roba sì sì è una roba è una roba che non puoi non premiare è una roba che nel senso è proprio roba potente io posso andare in un sito zozzo e cercare Final Fantasy XVI e vedere cosa esce guarda Rul34 Final Fantasy XVI sicuro sì immagino mi ricordo mi ricordo che Rul34 aveva subito il giorno dopo gli annunci di trailer di Pokémon scarato di violetto giallo ragazzi ma mi direi che ma aspetta che ragazzi ma benedicta benedicta ragazzi dentro la scena comunque cicciuzza stavi dicendo no porro vorrei fare il gioco dell'avvocato del diavolo allora io non vedo riprovarlo nella sua interezza però gioco un attimo il ruolo di quello che deve cagare la micchia che mi viene molto bene tra l'altro pensi che l'utilizzo di tematiche adulte sia stato comunque ben scelto ben gestito sempre oppure ci sia stato un elemento anche di strizzata ad occhio per far vedere che la serie cioè mettiamo a tutti i costi le scene di sesso perché vogliamo far vedere che la serie è cresciuta e maturata e adesso è adatto anche un pubblico adulto infatti era la mia paura cioè anche il citazionismo game of frunziano io avevo paura che fosse proprio una roba esplicita buttata lì tanto per invece è fortissima la caratterizzazione dei personaggi purtroppo è la cosa brutta che mi piacerà molto fare una live in cui saremo full spoiler in cui potrò dire potrai dire tutto quello che vuoi tutto sì perché sarò curioso di sapere la vostra però c'è una scena c'è una scena davvero in cui che non posso dire in cui potevano veramente scadere in un becero terrificante invece hanno fatto delle scelte che secondo me sono fortissime e tra l'altro c'è una quantità di violenza in quella scena ma non solo e questa è la cosa più secondo me più coraggiosa più a palle quadrate userò questa espressione delle palle quadrate due volte una è questa perché c'è violenza proprio violenza ma c'è una violenza psicologica brutale mentale in quella scena che è proprio minchia bella no no cioè perché ci sono veramente tantissimi temi maturi c'è psicosi c'è passione c'è arrivismo hanno veramente quelle che dicevo prima hanno veramente fatto tutto molto bene da questo punto di vista e la mia paura che a un certo momento o la narrativa sbaccasse o comunque si cadesse in un certo tipo di cliché è stata tanta per tutto il tempo dell'avventura e invece no ottimo c'è solo un inciampo c'è solo un inciampo ma non è un inciampo narrativo è un inciampo di gameplay che condiziona secondo me un preciso frangente che dura circa dieci minuti perché c'è anche una cazza indentro ovviamente e che però c'è anche lì chiamarlo inciampo è un po' difficile c'è una roba che a me non è piaciuta ok ma non perché sia oggettivamente brutta ma perché a mio gusto personale quella parte se gestita in un'altra maniera per me a Luca Porro poteva piacere di più però per dire veramente tutto dall'inizio alla fine e tutto il resto c'è una roba che verrà ricordata nella storia dei videogiochi una roba che secondo me è inarrivabile e quando uscirà tra youtube twitch quando la gente giocherà quella roba lì riempirà le home page tutte le cose è una roba che non ha anche se è una serie che non arriva così tanto no no quella roba lì è proprio quella roba lì quella roba lì esce anche in tutti verrà da qui ai prossimi 20 anni inserita se non al primo al secondo al terzo posto nelle classifiche della top 10 di e non vi dico che cosa sicuro comunque Final Fantasy è protagonista di robe molto iconiche nella serie dei videogiochi basta pensare la roba è che pensavo di essere io magari troppo esaltato quindi mi sono confrontato anche con altre persone e tutti non ce n'è uno che non mi abbia detto no no l'apice di quella roba lì è quel momento lì e verrà ricordato ho sentito sbrodolare tutti su questa roba ma è perché è proprio una roba in cui non so tipo il 90% del budget l'ha messo lì e quindi è una roba fuori scala e poi per me io ho visto una persona non è che no non fatemi dire questo che poi domani si era litico però hai fatto tutto da solo no perché dopo ho pensato poi c'è la gente che riporta le robe quindi non lo voglio comunque c'è una roba che è incriticabile secondo me è la colonna sonora una roba che è incriticabile per me è la colonna sonora sotto che aspetto giusto per capirlo sotto che aspetto era la no no proprio a livello di banalità di ripetitività e senza mordente senza mordente io mi ricordo il primo story trailer di quella canzone si chiama find the flames quella roba lì è potentissima dove attacco col violino all'improvviso e sono tutte le varie scene che si alterano quella roba lì è parte mamma mia è spettacolare ma veramente io mi ricordo che tanta gente ha criticato anche in maniera molto negativa la colonna per esempio io salvo tantissimo in final fantasy 15 le colonne sonore ragazzi potete dimmi tutto quello che volete però le colonne sonore sono qualcosa di spettacolare si somnus dai ragazzi però quelle 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 dei mondi cioè quelle dell'esplorazione un pochettino vanno a scemare quelle dei combattimenti delle cazzine sono un po' più potenti che vanno a scemare che comunque vanno diciamo ad adeguarsi al sistema del gioco più che altro la mia paura che appunto questo final fantasy 16 che mi ricordo che era una critica che c'era anche nel 15 che non c'era la presenza netta di Uematsu dietro al no 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 però c'è so c'è so c'è so che è quello che ha curato le colonne sonore di tutti i final fantasy quindi di tutte le espansioni di final fantasy 14 infatti la questione che perché si è parlato anche di questo io so che ci sono dei puristi che non lo diranno mai e so che alcune critiche arrivano dal fatto che per alcune persone Uematsu è un dio però è vecchio possiamo dirlo comunque sì sì è anche libero di farsi i cazzi suoi non che i vecchi possano fare il lavoro però ma infatti può anche dire va bene vai scusa infatti io dico final fantasy 7 remake che se non mi sbaglio è stato fatto da altri ma c'è stato comunque lo zampino di Uematsu tanta roba però io dico è anche venuto il momento magari di trovare cioè Soken fa un lavoro egregio cioè se devi prenderne uno e dire signori questo è il prossimo Uematsu io non vedo nessun altro se non lui cioè ha fatto della roba potentissima ci sono anche delle variazioni su vecchi temi classici di di final fantasy c'è io ve lo dico c'è anche la fanfara è è messa in un momento è messa in un momento specifico compare solo in quei momenti ragazzi c'è un lavoro c'è un lavoro dietro cioè io su questa roba vado vado matto per la per la colonna sonora cioè divento proprio scemo e bello c'è un cantante lirico famoso che ha analizzato su youtube perché è uscita una settimana fa è stato pubblicato il tema ufficiale appunto find the flame che ha una grossa componente di lirica all'interno questo cantante lirico famoso ha analizzato è quello che reacta qualche volta alle osse dei videogiochi e tutto il barbone quello che ha un nome italiano tipo quello che è bravissimo lui lo vede vedo tanti sui video lui ha fatto tanta roba della throne software un po' il polpetto mi sembra che si chiama meatball francesco meatball francesco meatball super italianissimo come di grave e ha fatto questo questo video su find the flame che è stupendo perché prima reacta impazzisce gli vengono i brividi e poi analizza tecnicamente il brano è una figata pazzesca ragazzi però per me è un buone incredibile io ho una domanda una curiosità più che altro rimandendo sempre sul comparto narrativo character design dei personaggi come impattano nella nostra esperienza ci affezioniamo sono delle macchiette per me c'è una macchietta a proposito di character design qua si può aprire perché adesso mi hai fatto venire in mente una roba si può aprire un bel discorso allora secondo me character design è cioè imprescindibile per valutare positivamente una narrativa di impatto perché se non se quella narrativa vuole raccontare dei momenti tosti è chiaro che deve farti empatizzare con i personaggi o con alcuni ma soprattutto deve anche farti odiarne altri deve comunque avvolgerti in un certo modo il problema è che in un'opera che vuole essere una one shot di videogioco e non un titolo che abbia sequel prequel e bla 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 cioè come cazzo come cazzo fai e qua tra virgolette chi ha rotto i coglioni sulla quantità di tazzin e di filmati questa dovrebbe essere la risposta cioè è chiaro che quel prologo di due ore fatto in quella maniera è anche predisposto per farti empatizzare con determinati personaggi perché alla fine del prologo succede una roba che se non hai empatizzato con i personaggi quella roba non ti scuote cioè adesso tu Kevin tu non l'hai giocato in un prologo quindi no però non so se ci è arrivato cicciuzzo anche alla fine non ci sono arrivato no perché sono una brutta persona ma va bene ma il prologo giusto perché scusa sono un paio d'ore sì sì sono fino a quando vedi proprio la scritta Final Fantasy XVI ok perfetto è stata anche il cazzo perfetto sì no però una cosa che ho notato cioè nel senso giocando quella io avrò giocato la prima delle due ore purtroppo la mancanza di tempo in questo periodo è mi fa fatica a trovare anche un'altra ora per completare la demo la cosa che però ho subito ritenuto interessante nella prima ora che è una un'ora introduttiva perché ti fa vedere comunque ti serve per conoscere anche che sono i nomi dei personaggi ti fa vedere quell'inizio in Medias Res che poi ti porta subito alla giovinezza del di Clive e diciamo che già una cosa che a me per esempio farò polemica però ho visto per tornare sulla sul sul parallelismo che abbiamo tracciato prima a me una cosa che del primo della Stovaz non era mai piaciuto era proprio il prologo nel senso che come dici tu quei prologhi sono scritti per farti empatizzare subito con il protagonista farti capire il soprattutto della Stovaz il suo il suo dramma che poi la porta a quel dissidio interiore che caratterizzerà tutta la la sua vicenda soprattutto nelle prime ore di gioco dove Joel è un dito al culo e e quindi chiaramente devi capire perché il suo carattere dopo 20 anni dall'inizio della della pandemia l'ha portato ad essere in quella maniera poi c'era di già costruito in realtà e un po' c'era di diciamo di diventato diciamo che io però la sensazione che ho avuto con Clive col personaggio di Clive in quella prima ora senza ancora aver visto il il primo twist il primo turning point della trama già me lo faceva apprezzare molto di più di quanto abbia potuto apprezzare Joel il modo di fare di Joel forse perché forse perché il non lo so è come se il prologo della Stovasa affrettassi un po' la 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 situazione cercasse di arrivare molto velocemente a quel a quel turning point cosa che forse un pochettino più la serie fa un pochettino meglio parerossalmente visto che si prende una buona mezz'ora della prima puntata non so io capisco quello che dici perché appunto quella sensazione l'ho avuta in un gioco e voglio vedere appunto quale sarà il mio approccio con con Clive alla fine del prologo secondo me hai detto le cose giuste cioè Final Fantasy 16 accetta di prendersi i suoi tempi e se ne frega di quello che può pensare il giocatore cioè Yoshida ha creato anzi il team di Yoshida ha creato lui ha supervisionato una roba che ti fa dire o lo ami o non lo ami cioè arrivi alla fine del prologo e dici mi sono rotti i coglioni o no se non ti sei rotti i coglioni lì scatta lo scalino e lì perché io continuo a dirlo tra trama principale e esperienza nel giocare la trama principale e esperienza nel giocare in tutto il resto c'è una differenza lì hai la vera ricompensa al giocatore cioè scattato quello scalino il gioco ti ricompensa con una trama che continua a darti incentivi per andare avanti ok e continuo a ripeterlo non si è visto un cazzo nei trailer si è visto forse 10% massimo di quella che aveva esperienza sommato dico tra tutto quello che è stato mostrato e e Clive è un personaggio non è il migliore dei personaggi perché non è l'eroe per eccellenza cioè Clive è un personaggio molto umano ok che si è trovato non so se sei d'accordo con me scusa non so se sei d'accordo con me ma adesso visto che sei parlando dei trailer sarebbe molto bello se la regia ci mettesse su un trailer e io dico questo non perché ci credo veramente ma solo per far alzare Simone che si è stava veramente sdraiato e voi non lo potete vedere io sì ma io stavo giocando a Marvel Snapper rutture di cazzo lo so lo so scusa scusa porro però era la tentazione era grossa era quello cioè è un personaggio molto umano che si ritrova in una situazione che lui non era stato perché devo stare attentissimo sono su un campo minato in questo momento lui comunque non era cioè questo si capisce anche nei trailer e nel prologo lui non era stato pensato per essere l'eroe di un'avventura ok diciamo così però lui è quindi molto umano e secondo me lui scusa dici dagli scrittori o diciamo nel mondo cioè il suo rapporto col mondo il suo rapporto col mondico lui non era lui non era stato immaginato come un eroe ok ok però mi viene da pensare un animo e adesso vi dico perché a proposito di scrittura Clive secondo me non è Nomuriano come personaggio non è non è Nomuriano perché secondo me quindi non è Nomurantico non è tutto tutto no per un cazzo tutto tutto Final Fantasy 16 a livello narrativo oltre a tutto quello che abbiamo detto è un grandissimo inno d'amore a Matsuno ok Matsuno è colui che ha fatto i Tactics fa Grand Story la mente dietro Ivalis e c'è una grandissima citazione a Matsuno per esempio è a Tactics che è il fatto che noi viviamo tre momenti differenti di Clive gioventù vent'anni trent'anni e così come l'eroe di Tactics lui per esempio cambia tipologia completamente di vestiario tre volte nel gioco cioè la prima volta quando lo giochi nella gioventù la seconda nel primo cambio e la terza nell'ultimo cambio questa non è una cosa a caso è citazione proprio a Matsuno la componente politica che c'è c'è una roba e che adesso mi vengono in mente cose c'è un sistema di racconto della lore apri una parentesi adesso che lo dici e di roba in mix che è importante Final Fantasy Tactics apri una parentesi probabilmente uno dei migliori giochi della saga nonché forse anche uno dei migliori di Square Enix in generale molto sottovalutato perché non è numerato chiusa parentesi sì 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 è vero che se non sbaglio per quanto riguarda la lore esiste proprio una roba dedicata che ti accompagna per spiegarti la lore è un strumento di gioco ho letto che è stato molto apprezzato al punto tale che quando è stato presentato è stato molto apprezzato al punto tale che ci sono le community che stanno dicendo ok avete fatto questa cosa figa adesso fatela per qualsiasi gioco vogliate fare da qui fino alla fine è una roba è una roba folle ma è una roba veramente figa ma non solo quella cioè una persona che non posso dirlo perché non l'ho scritto nell'accensione perché secondo me è un grosso spoiler quindi no lo evito però comunque a un certo momento sbloccherete una certa roba quando la sbloccherete direte ah e così ci sei anche tu Mazzuno ok ok va bene però si è proprio no da quel punto di vista io ho visto anche tante citazioni proprio e la cosa è stranissima perché poi nel gameplay non lo è per niente appunto come dicevamo prima ma c'è una forte citazione a certe impostazioni dei GDR del passato cioè non lo sentono sui GDR sì sì c'è nel senso i vari sui Coden appunto i Vagrant Story il Legend of Dragoon ma anche gli stessi Legend of Legaya Jade Cocoon eccetera eccetera avevano tutti una delle caratteristiche ben precise e qui c'è tantissimo citazionismo in questo cioè vengono citati tanto quei GDR del passato con piccole chicche come appunto il tizio che ti fa scoprire la lore il tizio l'hub di gioco in un certo modo cosa succede qui là su giù e tu dici che cazzo è proprio una dichiarazione d'amore del passato poi però è un cambio totale da altre parti è un bel mix secondo me che si è che sono riuscito a creare poi è uscito male dal punto di vista di Cobalt System è uscito meglio su questo tipo di citazionismo ok chiarissimo mi sto rosicando perché voglio sapere di cosa ti riferisci per effettivamente vai vai signor Milone scusi una cosa volevo chiederle può ripetermi la frase che ha detto prima con quel fare molto concitato che sembrava un doppiatore di real time per favore ma quale ma niente stavo ruttando vabbè ok a posto così grazie da ringrazio arrivederci dimmi Kevin ti vedo assorto nei pensieri stai pensando di fare nottata su Final Fantasy anche sai ho la playstation 5 per terra perché è troppo grossa ragazzi per terra quella di MC Sam ovviamente ci ho messo sotto un cartoncino e un piccolo penistallo per separarlo dal terreno però non ha un altro scappato ma poi tu che cazzo vuoi ma fatti i cazzi i tuoi ma è sdraiarti del letto per cortesia ecco grazie ecco perché voi non lo vedete non lo vedete esatto per fortuna che schifo madonna mentre invece approfitto di un argomento che abbiamo detto è un tratto di gruppo porrito doppiaggio io ho letto sul doppiaggio che questa Final Fantasy 16 è stato doppiato nativamente in inglese per la complessità e l'ampiezza diciamo del comparto narrativo non è il primo gioco di Final Fantasy non sto dicendo che è il primo gioco no 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 ci ciutti non interrompere no hai ragione hai ragione ma lo farò lo stesso va bene? fallo fallo lo sto facendo lo sto facendo in questo momento e detto questo e sappiamo anche che comunque c'è un doppiaggio italiano del gioco con la DeLorean non so neanche chi l'auto è sia è una Subaru baracca innanzitutto in che doppiaggio hai giocato e che ne pensi? no l'ho giocato sia in italiano che in inglese diciamo la prima parte in italiano la seconda in inglese ok e l'italiano è buono ha dei picchi ok non va mai sotto il buono quindi comunque si sta parlando di un doppiaggio di tutto rispetto e secondo me comunque ci voleva è un lustro premio per la comunità italiana ma il livello dell'inglese è in arrivato è così bello? nel momento in cui io ho switchato l'inglese è proprio una roba ma un pathos una roba nel vi giuro che Clive in alcuni momenti fa delle robe dice delle robe in inglese la parte la prima parte è emozionale ma in alcuni punti la seconda parte del gioco ha un respiro molto più ansiogeno più ti mette pressione ci succedono delle robe che comunque Clive empatizza molto quindi ci sono dei momenti in cui ci sono delle espressioni utilizzate delle frasi dette con un certo tono poi io ve lo dico c'è una caratterizzazione dialettale è strano dire dialettale perché uno va subito a fare una fantasy 9 non è così marcata perché in inglese non c'è quel dialetto però c'è una spinta sulla caratterizzazione vocale ok dei vari personaggi un po' come Game of Thrones essenzialmente si esatto seguire le casate in base alla loro cadenza loro origine tutto tu dici cazzo questi sono i Lannister perché hanno quella cadenza lì cioè questi sono invece i Greyjoy perché hanno parlano in maniera molto più burbera hanno una cadenza molto diversa cioè questa è una roba che comunque si è fatta bene come lo stai dicendo è fatta bene è quella ciliegina sulla torta che è questa gigantesca torta nuziale da sposare e da mangiare di quello che è comparsa a un narrativo di Final Fantasy XVI esatto è quella roba lì cioè lì è proprio chicca sulla trama principale è proprio è proprio una roba che comunque ti godi cioè ci sono secondo me come dicevo prima la questione è arrivare all'accettazione cioè nel momento in cui tu accetti che Final Fantasy XVI è una certa cosa e quindi che tu devi andare dritto fino alla fine e seguire la trama principale nel momento in cui tu accetti quello poi ti sdrai sulla sedia sul divano sulle cose e ti godi un'esperienza unica e quindi incominci ad apprezzare certe cose una di queste secondo me poi è appunto il doppiaggio cioè comunque è una roba che ti godi tanto io non lo nego io sicuramente lo rigiocherò fra un mesetto ok sceso un attimo il tutto me lo rigiocherò perché voglio riassaporarmi l'avventura che adesso utilizzerò per la seconda volta come avevo detto la questione delle palle quadre questa roba l'ho ho tartassato veramente tutti questa roba prelancio nel senso che Final Fantasy in tutta la sua esistenza nei 35 anni di saga ha sempre quasi sempre voluto raccontare una sfaccettatura diversa dell'amore ok che sia l'amore tossico che sia l'amore colpo di fulmine che sia il rifiuto perché ricordiamoci che Final Fantasy 12 è una grandissima storia d'amore sul rifiuto e l'amore passionale c'è un amore difficilissimo da raccontare Final Fantasy 16 lo prende di petto con due palle quadre ed è l'amore fraterno è una roba difficilissima da raccontare in questo secondo me c'è una forte ispirazione a God of War nel senso che God of War racconta l'amore paterno ok e quindi secondo me lì loro hanno avuto un quid nel dire ma spostiamoci su un qualcosa di differente per la saga lo fanno in una maniera incredibile ci sono dei momenti in cui io essendo figlio unico non ho potuto capire ma ho potuto immaginare e riescono comunque a farti immedesimare ma immagino che per uno che ha un certo rapporto con suo fratello o con una sorella questa roba può essere molto più di impatto e cazzo ogni tanto non nego che vorrei strapparmi gli occhi o cancellarmi la memoria come Man in Black per per giocarlo da zero perché secondo me comunque io ho l'esperienza che ho avuto a livello di trama principale quindi dall'inizio alla fine con Final Fantasy X è qualcosa che comunque mi porterò perché secondo me è un'esperienza di quelle che conti forse sulle dita di una mano beh credo che dire di volersi cancellare la memoria per giocare a un gioco che possa essere il complimento più bello che una persona può fare a un gioco stessa come sei profondo porno mamma mia ho le mutande bagnate però io quando adesso che mi ho detto questa cosa dell'amore fraterno io non posso che non pensare all'incarnazione precedente del brand perché anche lì in una maniera diversa ma comunque il sentimento di brotherhood ma inteso come amicizia amicizia quasi che va a soppiantare un legame un legame familiare che non esiste fra i personaggi soprattutto con Prompto alla fine Prompto era praticamente un fratello di 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 Noctis tu pensi che da un punto di vista di ispirazione delle tematiche il 15 qualcosa cioè poi il risultato immagino proprio che non sia proprio minimamente da un punto di vista di ispirazione delle tematiche dici che il 15 qualcosa ha cioè un qualche solco l'ha tracciato o è proprio una cosa che viene partono cioè perché tu comunque l'hai visto questo come viene declinato è semplicemente dai hai capito è difficile questa roba qua perché perché voi avete voi avete una visione parziale certo quello che è dato dal trailer e io non posso spingermi oltre su questo argomento va bene perché perché se vi faccio questo spoiler credo che dopo un po' mi mandate Milone sotto casa cioè quindi quindi no 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 vengo io scusa no quindi no quindi il discorso è che diciamo che è affrontato nella maniera è affrontato nella maniera giusta è affrontato nella maniera giusta ma io voglio Milone ho capito quella è la faccia con cui incutiti muore esatto appare da dietro un albero o un più probabilmente da un cestino o un bidone del secco rischio sai il meme di Berlusconi che esce dalla cosa che fa cucù con la faccia che ride in realtà Berlusconi è un insigniano di Giulia Crossbow Simone il criminale esatto no però stavo dicendo quindi secondo me ci sono delle cose esatto ci sono delle cose delle cose interessanti che ci sarebbero da dire su questo ma ne parliamo secondo me qui sarà l'episodio su No Filter di Digeru credo che prima cadrà l'episodio su Zed The Tears The Kingdom perché comunque ormai i tempi sono maturi non so se la regia potrebbe essere d'accordo la gente non vede le tue facce coglioni e quindi vabbè va bene vada cicciuzzo faccia lei no 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 io basta avete finito di parlare non sapete che cazzo dire non ho capito cicciuzzo aveva lanciato una domanda all'inizio infatti c'era una domanda della madonna all'inizio cazzo tacchi ma ecco ci vuole adesso abbiamo snocciolato diciamo i due punti principali per quanto fossero snocciolabili visto comunque i limiti sto facendo milone e ce la vengo fuori tipo puntozzi e diciamo la domanda precedente ovvero come sei bianco sì ok guarda il mare quanto è bello ispiradante sentimente vai quindi dicevo senza perdere concentrazione mi raccomando a chi ci stai dicendo a tutti a tutti col cuore col cuore ma con quale cuore quello uno dei no no non me ne trovo nessuno fai sta domanda cicciuzzo tu mi imbecchi sulle cretinate vabbè comunque non sono io gabbiano sei tu hai ragione dicevo sia da un punto di vista di gameplay sia da un punto di vista di narrazione anche se da un attrazione già hai parzialmente risposto col tuo ultimo intervento cosa secondo te rende un final fantasy tale e cosa è presente o assente di questi diciamo di questi pilastri di questi capisaldi della saga all'interno di questo gioco la fregna allora secondo me secondo me a livello cioè la questione di final fantasy è quasi sempre una questione di impostazione narrativa cioè di modo di raccontare la storia di tematiche nel senso ci sono alcune tematiche ricorrenti molto più però il problema è che secondo me comunque la componente da gioco di ruolo cioè la parte RPG di JRPG ci deve essere se non rimane semplicemente un Japanese Japanese HD esatto cioè buono un good drink quindi buono il Japanese quindi dico quindi dico cioè per me rimane sempre e che poi io sono una persona che fondamentalmente gli ho fatto sta recensione continuo a dirvi che lato ludico però a me non frega cioè se devo parlare come Luca Porro non come recensore a me della componente ludica non me ne è mai fregata una ciolla cioè non sono non sono uno di quelli che va a stipularsi ho una super domanda vai finisci poi no no diciamo quindi non sono uno che si 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 praticamente hanno appena detto che non gli hai fai un cazzo del suo gameplay del suo gioco no non è vero Luca Porro Luca Porro no va bene ok pronto Vittorio si hai presente Luca Liguori no ho appena comprato si no pronto via Silvio hai presente il gabibbo cioè web esatto cioè quindi il discorso è che non mi spippolo su quella roba lì quindi è chiaro che se hai una grandissima narrativa mi colpisci di più che se hai un grandissimo gameplay viceversa se fai caccare la narrativa probabilmente ti stronco di più però però è secondo me innegabile che comunque un po' di GDR in un Final Fantasy ci deve essere poi che non sia una roba iper profonda siamo d'accordo però che magari tu incominci a dire cazzo aspetta adesso mi metto sto accessorio quest'arma mi metto sta roba attacco energira mi tengo energira perché non voglio usare le magie però poi dopo mi sparo faccio 9 milioni di danno a sto boss perché mi serve quell'arma e so che se lo spacco poi quell'arma inserito in questo contesto mi busta tutte le magie di fulmine quindi dopo apro il culo a tutti almeno un minimo io non ti chiedo tanto un minimo qui c'è un'impostazione alla God of War cioè dove qual è il motivo per cui io mi vado a fare l'Uroboro qual è il motivo nessuno semplicemente perché di difesa di statistica 95 anziché 75 e quella roba lì è troppo poco cioè non dico che volevo una roba alla Balthus Gate alla Diablo però ok però un minimo ecco ma ma tu hai avuto anche l'ardire di provare la Easy Mode perché io so che in Easy Mode era stato annunciato che ci sono una serie di oggetti che ti facilitano estremamente la parte action per provare progredire facilmente con la storia e dare più rilevanza appunto alla parte narrativa che alla parte di perché c'è Kevin? no no siamo al funerale di Mandela hai presente? quando faceva se c'era il tizio che faceva il linguaggio però aveva sbagliato completamente tutto e stava andando a fanculo la popolazione mondiale in pratica e qui stanno facendo questa roba e sì in verità ho provato tutte e tre le modalità cioè Easy cioè storia azione e modalità Final Fantasy e storia è una roba ma che poi in verità la questione degli oggetti non è la questione della modalità nel senso che tu puoi attivare gli oggetti anche in modalità azione e anche in modalità Final Fantasy però la modalità storia è proprio facilitata cioè i nemici hanno meno vita sono tarati a un livello cioè non crescono di pari passo col tuo livello in maniera quasi proporzionale quindi è estremamente facile cioè sciogli tutto sciogli tutto proprio da qualunque io l'ho finito cioè ho iniziato proprio il prologo che avevo già giocato all'anteprima l'ho sfruttato per provare la modalità facile in modo di capire che cosa faceva eccetera eccetera dopo di che ho switchato modalità azione l'ho finito in modalità azione sono morto un paio di volte un paio di scontri carogne poi ho provato la modalità Final Fantasy che oggettivamente mette più sfida sul tavolo perché i nemici sono molto più difficili perché ci sono dei nemici che non ci sono nella modalità azione storia e effettivamente ti devi impegnare di più però torniamo sempre al discorso di prima se non mi dai un reward per fare questa roba a me che cazzo me ne frega di rifarla è come le modalità arcade cioè una volta che ho completato la modalità arcade e che ho il punteggio di fianco al mio nome cioè la questione è che a completare tutta una serie di robe extra che ci sono anche nella modalità base non nella modalità Final Fantasy per poi avere un cazzillo di collezionabile decorativo non me frega niente non lo faccio andare a esplorarmi tutti gli anfratti delle tre open map per non avere niente di reward se non un'arma che non ho mai equipaggiato perché avevo già armi più forti per quale motivo cioè è sempre quello il discorso in Elden Ring adesso vi faccio questo discorso in Elden Ring tu vai in un dungeon per prendere quell'arma ma quell'arma se inserita in un certo contesto di build può funzionare anche meglio delle armi che hai già e non per forza un'arma che ha maggiore statistica di danno è la migliore perché magari nell'inserita nella tua build o quella ti permette di crearci attorno una build cioè che ne so tipo la build del sanguinamento allora ha un senso ma questo è un ragionamento che puoi fare quando è un action rpg perché è per quello che ti dico lui sta dicendo quello ecco è quello che sto dicendo e il problema è che questa roba qua dovrebbe essere quello tu per quale motivo dovresti impegnarti per cercare l'omega della situazione oppure quell'arma che ha quella caratteristica particolare se tanto poi dal punto di vista del gameplay puro nudo e crudo un'arma equivale all'altra l'unica cosa che cambia è che se hai una statistica d'attacco più alto fai fuori il mostro semplicemente prima è questo il concetto? esatto esatto vi dico questa roba qua che non è spoiler perché tanto non la conoscio un cazzo di nessuno è un'arma credo nuova non l'ho mai sentita su Final Fantasy su Final Fantasy c'è un'arma che si chiama non si chiama così ma non mi ricordo esattamente il nome perché è tedesco si chiama Ex-Guten-Mungen-Raus cioè 3 acuri in italiano no no allora fermi tutti io propongo una petizione su Change.org che è un sito dove se cioè se tu una petizione raggiungi un risultato sicuramente succede no il nome ufficiale la pronuncia ufficiale dell'arma sarà quella appena detta da porno io propongo questa cosa qua cioè non mi ricordo devo andare a guardare sul gioco un cazzo di camera però io facciamo così è scritto in Battenfraug che mi piace molto ok cioè hai bisogno per fare quella roba lì di ottenere 4 materiali ok ok 3 di questi materiali si ottengono da cacce ok 2 da livello S ok ok ma quell'arma ha solo 10 punti di più di danno rispetto all'arma con cui ho finito il gioco ok cioè davvero non hai motivo anche perché quei 10 punti di danno vi giuro vi giuro su Dio non cambiano di una virgola la velocità con cui stannate o fate danno cioè non qui non sono 10 punti sono 100 i punti che ti servono per fare più danno ma non 10 e lo stesso gli accessori cioè gli accessori ti aumentano la statistica di difesa ma poi a livello di parametria e ci sono dei parametri extra che però non vengono utilizzati nel gioco cioè a livello di parametri l'unica roba su cui puoi agire con i boost dei vari accessori è i secondi di cooldown e la percentuale in più di danno o stordimento di una determinata abilità ma il massimo percentuale che ti viene modificato è il 10% quindi comunque avrai tre quarti degli oggetti che ti daranno al massimo 3-5% di modifica e 3-5 secondi quelli più forti 10 secondi 10% non ha veramente cioè sono numeri infimi non hanno veramente senso di esistere quindi cioè per quello dico ma giusto per mettere le cose in prospettiva all'interno esatto all'interno di un del gioco le battaglie le boss fight mediamente quanto ti durano perché capisco magari se tu ti fai un ride di un gioco che dura 70 ore non il gioco il ride che dura 70 ore quei 4-5 secondi di cooldown più veloci ti servono perché vuol dire che nell'ordine delle 70 ore quell'incantesimo non lo spammi 100 volte ma lo spammi 200 quello dico qui quanto dura una boss fight mediamente cioè non c'è non puoi dare una media perché purtroppo il gioco a un certo momento ha un cambio drastico di ritmo delle battaglie nel senso che l'inizio tu hai 0 1 icon e poi 2 icon per gran parte del tempo ok poi arrivi a un certo momento in cui sblocchi il terzo e da lì cambia drasticamente il ritmo perché 3 icon vuol dire 6 abilità 6 abilità se scelte quelle giuste che semplicemente vuol dire quelle che hanno questo è il mio consiglio 3 ne metti con il più alto stordimento che puoi 3 li metti col più alto danno che puoi poi è una danza è una danza cioè quasi un ritmo in game da quel punto di vista cioè entri in quel mix per cui ok fai R2 triangolo L2 R2 triangolo L2 R2 triangolo L2 boom stordito R2 quadrato L2 R2 quadrato L2 R2 quadrato bam distrutta mezza vita giusto giusto per capire quindi L2 L2 ti serve per cambiare l'icon per cambiare l'icon esatto e le R2 invece per accedere all'abilità dell'icon esatto esatto ok quindi è veramente da quel punto di vista una una danza quindi il il discorso è che quando hai quella roba lì il sciogli cioè ci sono battaglie che poi facciamo adesso faccio un distinguo io sto principalmente parlando di mid boss ok ok cioè il gioco è pieno stiamo vedendo uno scontro con un malbor esatto tipo questo questi questi che adesso sembrano boss e all'inizio del gioco ti vengono presentati come boss questi sono i mid boss ed è pieno ognuno tra l'altro con un moveset diverso sono battaglie mmo ragazzi il positioning fondamentale devi imparare il pattern la schivata al tempo giusto che ti permette ogni tanto di rallentare il tempo di fare determinate robe più avanti poi lo vedrete cioè sono battaglie mmo in terza persona con una telecamera diversa da quella di fire fantasy 14 domanda scusa la telecamera telecamera è buona perfetto quindi hanno imparato finalmente a programmare una telecamera sì perché le due guarda le due volte che mi sono incastrato io con la telecamera perché sono un coglione io ok ok però anche il lock anche il lock è perfetto anzi addirittura ti vengo a dire che giocare senza lock è stata una goduria in certi casi cioè soprattutto con i boss più grossi giocare senza lock e il gioco ti permette di giocare tranquillamente senza lock senza avere grossi impedimenti però per esempio nelle battaglie con nemici più veloci e piccoli non in gruppo ma uno contro uno con quelli piccoli il lock è fondamentale certo perché comunque ti aiuta invece con quelli grandi senza lock tranquillamente la telecamera non ho mai avuto zero problemi che figo a parte appunto una volta in cui purtroppo quella è una battaglia non dico di merda perché in verità il personaggio è pure figo è un mid boss che purtroppo è enorme e lo combatto in un corridoio purtroppo quello purtroppo lì e lì mi sono incastrato in un paio di volte ah quindi Dark Souls questo quello è Dark Souls sì quello è estremamente Dark Souls quello purtroppo è enorme in un corridoio di un castello quindi è infipo va proprio bastardo però però no tranquillo invece i boss che sono i boss sono le battaglie con gli altri i veri boss sono le battaglie ok quindi quella sorta di picchiaduro che abbiamo visto di trailer sì però senza spoiler no senza spoiler quelle battaglie lì sono lunghe perché sono divise in più fasi perché sono più coreografiche c'è anche la battaglia dominante dominante poi magari dominante icon poi icon icon quindi hai più fasi quelle sono anche in alcuni momenti della stessa battaglia anche più scriptate e quindi quelle sono più lunghe e non hai modo di accorciarle di accorciarle perché sono fatte così certo certo però sono anche quelle che cioè io guarda le più brutte battaglie con gli icon sono quelle iniziali cioè quella del prologo e esatto e la prima post prologo ok le altre ragazzi mi ricordo un cazzo eretto ma proprio una roba proprio una roba ma cosa di cazzo eretto porro e cicciuzzo sei andato dimmi no si è alzato di conseguenza per la forza no comunque non è vero non c'è un cazzo dato che comunque siamo ormai quasi verso le battute finali dica sai mi piacerebbe farti una di quelle domande tipo sai da quelle shorts da youtube quelle easy del tipo 5 motivi per cui non giocare final fantasy 16 per non giocare non giocare no ho scritto 8 e mezzo da giocare quindi per me non esistono secondo te questo è un gioco che tutti possono e gli piacerebbe no è un gioco che chiaramente è divisivo ma la condizionale è sempre solo una cioè se tu non sei un amante di final fantasy o non sei amante dei giochi narrativi non hai motivo di giocare questo gioco perché se lo giochi solo per il gameplay sicuramente il gameplay non ti soddisferà perché non ha profondità cioè è divertente è bello da vedere coreograficamente è una roba veramente ai livelli di devil may cry ma finisce lì cioè non ha non ha profondità questa roba da quello che mi hai raccontato mi verrebbe anche da dire chi cerca un'esperienza rapida una storia rapida che comunque ti viene detto tutto subito in brevi tempi qua invece prende suo tempo però ascoltami Kevin se sei uno che cerca una storia rapida in cui ti raccontano tutto subito o sei stronzo o sei scemo ma che cazzo porro la delicatezza no no ci puoi far rispetto sul pensiero ma credo che sia una cazzata perché comunque ci sono persone anche giocatori che non cercano questo effettivamente no però non cerchi una storia cioè la storia ma la storia breve che ti racconta tutto subito ma che storia è tu hai mai giocato porro hai giocato Eddie Finch anche ah sì che già dura due ore dura due ore e secondo me contiene una narrazione che comunque del suo genere è molto potente sì sono d'accordo però non è una storia superficiale no non è superficiale ma io intendo appunto rapida credo come che Kevin intenda cioè accessibile nei suoi contenuti in poco tempo non nel senso superficiale non è una questione questo muore questo muore tu vivi devi vendicarti succhia dai perso via ciao non in questi termini vabbè ok però comunque stiamo parlando di 35-40 ore Kevin cioè non è che stiamo parlando di appunto un titolo che si si fa giocare però beh è bello perché perché è bello perché questa frase e no questa frase di Kevin mi ha fatto capire questa frase questa frase di Kevin mi ha fatto capire con quale spirito con quale spirito lui si approccia all'esame prostatico Iappomo hai completamente ragione Iappomo è arrivato adesso e dice sì però succhia e sta zitto giusto esatto c'è ragionissimo non hai ragione poi secondo me comunque Kevin si appresta a questa tipologia di esame con lo spirito giusto mi piacerebbe essere una mosca per vedere quando Final Fantasy 16 abuserà del suo retto ah ok penso quando avessero studio del medico io non ho però io non so cosa dire però aspetta una cosa una cosa tu hai detto non è fatto per chi o non è un'ante della saga o non è non cerca un gioco narrativo quindi diciamo che ha delle aperture al pubblico diverse rispetto ai giochi precedenti cioè ha un targeting che al netto dei fan della saga è molto diverso dal passato ora la domanda è da una persona come Milone che non ha mai giocato un gioco giapponese un RPG giapponese in vita sua perché non gli piace quel targeting considerando la potenza narrativa tu gli diresti comunque giocatelo perché anche se non ti piace Final Fantasy potrebbe stupirti visto che comunque considerando lui i giochi narrativi li apprezza giusto Milone? sì no la discriminante è solo allora in verità io credo che Milone lo possa apprezzare per un altro motivo perché comunque Milone è uno di quelli che a livello cinematografico di serie tv guarda ok ok è uno che secondo me comunque apprezza quel genere di contenuti è chiaro che non mi ricordo se me l'aveva detto o no però mi sembra di sì è che Milone non apprezza il fantasy ma apprezza la fantascienza ok però a netto del limite dell'ambientazione no no però sì se lui fosse un appassionato di fantasy per esempio ma non fosse un appassionato di videogiochi orientali secondo me questo potrebbe farlo sbrotolare perché a livello di tante scelte è molto occidentale come opera prima dicevo c'è una macchietta ma questo gioco non è pieno zeppo di momenti kawaii non è zeppo di momenti però però dico c'è anche cioè perché poi mi scuserete ma gran parte dei final fantasy vecchi erano molto nomorate in gran parte delle cose questo gioco è proprio privo di ma anche per i toni cioè è molto cubo questo gioco ci sono dei momenti in cui c'è la battutina ma forse sono due in tutto il gioco ma anche se non ti chiami toni va bene lo stesso cazzo se che la stavo pensando io però stavo pensando a fertoni quello di comunque ci sono dei messaggi di porno molto interessanti però meni come un fabbro non è ff gli amanti del genere non esistono più visto che non è lo stesso genere dell'ff eh sì scusa iappomo lo so siamo ben lontani quindi boh a che livello di no anche a livello di se sei un fan non so quanto possa valere un ff di adesso però dipende cosa c'è iappomo c'è nel senso ripeto per me il tactics è stato uno dei migliori final fantasy di sempre e non era era rpg no ma ragazzi ma davvero state davvero state rispondendo a lui hai ragione no ma povero iappomo no ma dai ma lascia stare ogni tanto lui ogni tanto ogni tanto lui dice qualche cosa seriamente ma uno che mi scrive mi dice bene che sono anche fan di dmc anche di quello brutto altrimenti scaffale ma bannalo per favore ha preso 5 euro il pc su humble bundle ma a parte il fatto che ha già cagato fuori dal vaso due volte perché ha scritto due stronzate a quello sui fan di ff due su dmc che ho già spiegato tre volte legiti la cazzo di recensione testa di merda ho scritto che non c'entra un cazzo con dmc non c'entra un cazzo con dmc è semplicemente apparenza cosa stavi facendo su quel cazzo di scoglio a pescare come sanpei invece dovevi scendere e leggerti la cazzo di recensione comprati final fantasy che sei fan stai zitto e gioca ci rivediamo il 29 di giugno perfetto va bene non so leggo non so leggo ha scritto la risposta così non so leggo non so leggo è coerente alla fine porro stai calmo povero gabbiano non è giusto lele lo so comunque è giusto per finire appunto ne approfitto del commento del cazzo di apone per dire che comunque dal mio punto di vista è quello che appunto stavo cercando di tirar fuori a porro prima come? si? cosa? stavo cercando di tirar fuori da porro prima era appunto il discorso final fantasy alla fine non è un gioco che ha avuto una continuità di gameplay nel corso dei suoi 35 anni non stiamo parlando di un cazzo di Mario 2D che nel corso di 40 anni di saga fra un po' comunque ha mantenuto delle basi del platforming e molto solide stiamo parlando comunque di una serie che ha avuto un botto di declinazioni fra capitoli principali e spin off al punto tale che un approccio più action non va a sfigurare certo dice porro giustamente qui proprio la componente gdr sembra è praticamente assenta da quel punto di vista quindi forse da quel punto di vista è un passo più lungo della gamba per la serie però per me final fantasy è sempre stato le tematiche di fondo la lore i riferimenti ai vari mondi dove c'erano degli elementi che erano solidi sempre presenti quindi non non so bene cosa si aspetti la gente da un final fantasy probabilmente si aspetta i final fantasy della playstation della playstation 1 che sono quelli con cui ho iniziato ma già fra il final fantasy 7 e final fantasy 10 c'è un cazzo di abisso in mezzo c'è un cazzo di abisso la gente non se ne rende conto si è vero però guarda mi è venuta in mente una roba è presente il discorso che Nomura fa fare a Aerith in final fantasy 7 remake in quella zozzeria di capitolo 18 si ok aspetta quello legato ai rumen si in generale è quello riguardante i giochi quello che è la metafora sui videogiochi sui videogiocatori ok sul fatto che bisogna staccarsi dal passato che loro vogliono fare il cazzo che vogliono se saltiamo in quel posto esatto esatto final fantasy 16 ok non c'entra che cazzo stavo facendo non c'entra niente con questa roba qua e devo stare attento a quello che sto dicendo perché potrebbe essere fra inteso quindi Milone stai un attimo zitto il discorso è siamo squadre che faccio bannare che secondo me io ci ho visto un po' di dello stesso sale ok di quel discorso in tutto final fantasy 16 cioè a me sembra che comunque al di là della bellissima narrativa eccetera di tutto quello che abbiamo detto prima secondo me sotto un pelino di basta il passato è passato da qua si prende un'altra direzione un pelino c'è ok è quello che dicevo alla fine della conclusione della recensione di salto della fede di che chiede Yoshi dai fan cioè è come se questo capitolo anche nel primo trailer non so se ve lo ricordate la questione del retaggio dei cristalli ha rotto il cazzo e quella roba là cioè è una roba è una roba coerente alla storia lo vedrete però è una merda 8 e mezzo cestino ma poi ho chiesto senza l'acrata ho chiesto a chat GPT di riassumere in 300 lettere la tua recensione mi è uscito fuori è una merda 8 e mezzo cestino buu cestino buu no però è quello cioè il discorso il discorso hai fan sul questo questo è un nuovo percorso da qua parte una nuova una nuova strada secondo me sotto sotto comunque c'è anche quello cioè che proprio però secondo me la differenza con Final Fantasy Remake è nettissima nel senso che io avevo profondamente criticato quella scelta finale perché a me l'espediente del Numen mi aveva cioè nel senso io avevo capito che cosa andava a rappresentare non ti dico sin da subito ma c'è un punto dove è praticamente evidente e poi ne hai la conferma nelle fasi finali quando sei sulla torre della Shinra in cima quando c'è un certo la certa apparizione di un certo personaggio e succede una certa cosa Barrett ok per capirci ok secondo me io ai tempi avevo detto è una rottura di coglioni cioè una presa per il culo fortissima perché tu avevi da subito la possibilità di fare il cazzo che volevi perché da un remake da un lavoro di remaking non mi aspetto un Final Fantasy puro e crudo dall'inizio alla fine basta che lo dichiaravi subito in maniera plateale invece adesso ci troviamo nella situazione in cui hai fatto il primo capitolo che segui in maniera abbastanza pedisseca Midgar poi ti sei inventato sta stronzata per giustificare il fatto che nel disco 2 nel gioco 2 potrebbero succedere delle cose completamente diverse dal futuro ma nessuno ti aveva detto di una cosa del genere cioè tu la potevi benissimo fare l'unica cosa è che tu devi essere coerente sin dall'inizio sia come scelte di narrazione sia poi come sviluppo narrativo perché comunque ricordiamo che il fatto che Zack faccia cioè abbia un certo epilogo è importante per lo starting point della trama di Final Fantasy 7 è importantissimo se tu mi fai mi fai vedere quel finale di Zack e hai iniziato a fare il gioco in una certa maniera rispettando quella trama però poi l'evoluzione del gioco lo fai in questa maniera un po' mi fai cadere le palle no cicciuzzo e poi dove vanno è roto o no? Final Fantasy 16 invece tu dici questa cosa qua la ritrovo sì ma Final Fantasy 16 non ti ha mai dei palle con una cosa al inizio e poi totalmente un'altra infatti infatti quello che ti dico è che che stavo dicendo prima è con le dovute misure intendo l'intenzione di far raccontare attraverso una metafora ai personaggi l'idea del la direzione del team di sviluppo io credo che in questo caso comunque attraverso alcuni precisi momenti che sono di trama sotto ci si può leggere anche la volontà di dire tra le righe stacchiamoci dal passato quello dico e secondo me è un bene cioè questo è il motivo per cui comunque c'è anche 8 e mezzo e anche il fatto che secondo me questa è la direzione giusta quindi in sostanza è scurdammo giubassate simile a Napoli fa le freddy esatto sai cosa ti dico? sì no si è spento porro comunque Iappomo prima dice ma famocca Square Enix voglio la scorporazione e torniamo a Squaresoft petizione devo aver bevuto eh amico se non aver bevuto amico Fritz ha fatto una battuta al mio livello sì sì ha fatto comunque domanda importante ma sono 16 giochi che continuano a dire fantasia finale ma sto fin ecco appunto madonna c'ha ragione Iappomo quando arriva sto finale cioè voglio dire Final Fantasy c'ha ragione io voglio saperlo cioè voglio dire se devo approcciare quando chiuseranno Square Enix mi sto di sì secondo voi a quanti capitoli arrivano ancora? quando chiuseranno Square Enix quindi a 16 no secondo me dai almeno a 20 ci arrivano e poi a 20 smettono stop non fanno più nient'altro fanno la prima fantasy finale no arrivano Final Fantasy 6 e 20 reboot e ricominciano da capo per i prossimi 20 anni ancora ci saranno altri giochi no cioè ormai porno spento ormai porno staccato va bene va bene comunque io direi che abbiamo anche finito cioè basta abbiamo parlato per due ore di Final Fantasy 16 direi che tutto quello che c'era da dire è stato detto ma rimandiamo l'appuntamento su questo gioco a un possibile GX no filter del quale abbiamo usato poco la sigla quindi vorrei comunque poter riproporre la sigla di questo format ma non ho capito ma io quando vengo inserito nella sigla di che cosa no dico di Game Experience molto presto verrà fatto una modifica non ti preoccupare esatto come unico vero Dio allora farò una versione di facciamo così porno un giorno tu vieni da me e facciamo la sigla di GX Chatting identica frame per frame invece di noi ci sei tu in tutte le bello bello ma posso anche essere inserito come alla fine di GX però c'è un problema sì va bene c'è un problema però porro la lo spezzone Simone è durante il concerto di Salmo quindi ti devi controvare sì esatto devi andare a un concerto e devi far sì che devi fare la stessa identica scena se no non va bene non c'è problema chiamano quattro amici sotto casa sì certo eravamo quattro amici final inserimento esatto sì esatto porro se vuoi ti inserisco io come un floppy ok va bene guarda che deve aver bevuto sì no è carichissimo è carichissimo comunque come dicevo faremo poi una puntata dedicata a Final Fantasy XVI con un bel no filter dove gli spoiler potranno essere potranno essere detti senza problemi di solito quando si fa un no filter noi tendiamo ad aspettare un po' un esetto sì esatto perché così almeno tutti hanno avuto modo di giocarci si può spoilerare senza problemi e grandi peni poi faremo come detto ma quindi posso dire si muore io ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito fino adesso e ci vediamo domani pomeriggio in diretta sempre sul canale e poi domani sera quindi domani pomeriggio alle 14.30 in live con me mentre domani alle 21 in live con il piccolo si chiama Rocco Siffredi ciao Rocco in live con il piccolo Kevin perché giocherà a Final Fantasy XVI meno male che non ho condotto questa puntata sono molto contento è stato non importa ho capito per voi ciao Kevin mi fa fatta ed ora venonda il secondo tempo del film 2022 i sopravvissuti i sopravvissuti